Ciao a tutti da Mondo Calcistico, oggi analizzerò un dribbling fatto spesso da Karatschelia, l'attaccante del Napoli, che fa un dribbling molto molto particolare e che a tratti neanche consiglio più di tanto ai dilettanti e ovviamente agli amatori, perché ci sono degli aspetti molto importanti che vanno curati e non proprio sicuri per chi non li sa fare. Ti chiedo però subito di iscriverti al canale, spesso si parla di come la conduzione con il pallone vada fatta con il collo esterno. Ecco, l'attaccante del Napoli non sempre di quell'avviso perché effettua una conduzione che spesso si consiglia a calciatrici, calciatori e così via, perché è una tipologia di corsa un po' più complicata per prendere velocità, magari in spazi grandi, in spazi larghi, comunque non è molto consigliato perché non si riesce a prendere molta velocità, non è questo il caso di questo dribbling ed è una tipologia di preparazione al dribbling alla finta, fatta poche volte da pochi calciatori, che però ha anche una sua efficacia. In questo caso quindi vediamo proprio Karatschelia che inizia la propria corsa con l'interno invece che con l'incollo esterno e punta l'avversario. Con questo tipo di corsa diciamo che l'attaccante si alza un po', alza anche il baricentro, ma lo fa proprio per prepararsi a riabbassarlo e lo vedremo dopo. Quindi comunque questa conduzione che può sembrare anche con poca coordinazione, poco equilibrio anzi, comunque ripeto, il baricentro alto, i piedi non sono stabili a terra, ma è tutto nel volere di Karatschelia. Da questa immagine addirittura sembra che l'attaccante del Napoli sia fermo, palla al piede, invece non è così, sta continuando ad avanzare sempre lentamente, lentamente, cercando di capire bene le mosse dell'avversario e del difendente, cercando di capire anche dove potrebbe andare e magari anche nel frattempo guardando completamente il gioco, quindi compagni e avversari. Comunque Karatschelia attacca l'avversario, si avvicina ed è pronto a sferrare diciamo la finta e il dribbling. Già da qui si nota un atteggiamento decisamente diverso rispetto a prima perché il difendente è più vicino, Karatschelia abbassa il baricentro, è più stabile con i piedi, con gli appoggi ed ecco che nuovamente provoca, per modo di dire, l'avversario si rimette a danzare sul pallone, affonda un po' di più il piede e l'appoggio per capire bene quando e come agire ed ecco che ci siamo, il difendente ha fatto la prima mossa, Karatschelia è lì pronto e dicevo prima, lo provoca perché lì il difendente e l'avversario pensano che quello sia il momento giusto. Perché? Perché Karatschelia non ha il baricentro basso, non è pronto con gli appoggi a andare da una parte o dall'altra, però diciamo che questa è proprio una provocazione, cioè Karatschelia sta facendo finta che sia così, lo sta facendo credere all'avversario ma ovviamente non è così. Ed ecco che il difendente è pronto ad affondare un po' di più il colpo, Karatschelia è pronto invece ad andare verso destra, quindi a rientrare sul suo piede destro ed ecco che qui c'è già un appoggio un po' più stabile, un po' più sicuro e anche il busto è già proiettato per andare dove deve andare. Il piede effettua quel tocchetto sul pallone per andare sulla destra. Diciamo che può sembrare anche una postura un po' innaturale, però è questo, nel senso Karatschelia fa un improvviso cambio di direzione, va subito sulla destra, il difendente è un po' più ancorato sugli appoggi, non è molto stabile per un eventuale cambio di direzione ed ecco che da qui in poi Karatschelia non solo può contare sulla sua tecnica, ma anche sulla sua forza negli appoggi e nella spinta. Il piede sinistro infatti questo, sta dando una spinta notevolissima, considerando anche il fatto che il busto è praticamente fuori dall'asse, il piede destro non è a terra quindi non può garantire ulteriore spinta, quindi tutto si basa su questo piede. Si è partiti da questo a questo, quindi un appoggio, un dribbling, una finta molto efficace e da qui in poi chiarisco quanto ho detto a inizio video, nel senso ci sono cose che non sempre raccomando o consiglio. In questo caso vediamo la spinta del piede di Karatschelia, in questo caso questa, può sembrare un po' innaturale con il tallone alzato, in questo caso è normale perché comunque si sta staccando dal terreno, ma successivamente non è proprio così. Nel secondo appoggio con il destro il tallone è alzato, quindi tutto fa leva sui muscoli e sulle articolazioni del piede destro, quindi grande forza, ma anche ovviamente, mi riferisco a quello che ho detto prima, una grande preparazione, lui lo sa fare. Potrebbero esserci casi di calciatori che non sanno farlo, mi riferisco anche a direttanti, anche ad amatori, che potrebbero rischiare grosso, lì ci potrebbero essere problemi seri ai tendini, alle articolazioni, comunque anche al tendine d'Achille, un aspetto molto molto importante e è per questo che a volte quando, diciamo, vediamo dei calciatori in Serie A iniziare la rincorsa con le punte, quindi con il tallone alzato, io dico sempre lo sanno fare, se lo possono permettere. Doverlo consigliare a direttanti o amatori è molto più complicato, perché lì, nel caso si dovesse fare male tutto questo, si rischiano veramente tanti infortuni, anche gravi. Ed è impressionante come il difendente sia ancora lì. C'è chi potrà dire, vabbè, non è un grande difendente, no, è il contrario, è Karazkeglia che è molto molto bravo. In questo caso, con questa spinta notevolissima, riesce ad andare subito da questa parte con un ottimo controllo del pallone e proprio dopo quel dribbling, quella finta, va subito, immediatamente sul pallone per poter calciare in porta. Ed ecco la distanza notevole raggiunta tra sé e il difendente. Successivamente il tiro, altro colpo del proprio repertorio, e se analizziamo la situazione, praticamente il Karazkeglia ha tutta la porta a disposizione, quindi da palo a palo, su secondo palo. Il tutto partendo da questa posizione, avanzando piano, 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 per poi trovare il tempo giusto e con la sua tecnica di dribbling andare subito a destra per poi calciare da questa posizione e da questa situazione. Cosa ne pensi del dribbling di Karazkeglia? Iscriviti al canale e ciao a tutti da Mondo Calcistico!